Il Santo del Giorno 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 Il Santo CISL interviene sulle carenze nei 5 ospedali Un taglio di 14 milioni di euro in un anno Una cifra molto importante nella gestione dell'area vasta numero 1 Che secondo la CISL appunto è la più penalizzata della Regione Marche I conti sono semplici nel bilancio definitivo del 2018 Il budget ammontava a 352 milioni di euro Nel bilancio di previsione dell'anno in corso a 343 E oggi nei conteggi definitivi di 338 milioni Per il personale sono stati persi 6 milioni di euro Centro pagina lavoro nero 25 imprenditori datori di lavoro nei guai Sono commercianti, ristoratori, gestori di locali e imprenditori di vari settori Ma la finanza scopre dipendenti irregolari anche negli studi dei professionisti Eseguiti più di 400 controlli e un'ampia tipologia di illegittimità Per quanto riguarda la ruota di Pesero Suscita polemiche Sono stati sotterrati i blocchi della torre Sono due cose diverse I blocchi della torre, quella che è stata smantellata Che pare, secondo almeno il centrodestra L'opposizione di Pesero a Pesero Che questi blocchi siano stati sotterrati E quindi in qualche modo non portati via Qui siamo sul carlino di Macerata Risorge la Basilica Camerino, conto alla rovescia per la riapertura di San Venanzio Don Marco Gentilucci nella Basilica di San Venanzio In questa fotografia dopo il terremoto Frode milionaria, maxi sequestro, operazione Grande Muraglia Fatture false e società fantasma per evadere il fisco Sette le persone denunciate Ancona, il venditore di cannabis Spacciava, arrestato dalla polizia a Senigallia Il titolare di un group shop Con 8 chili di marijuana Tra marijuana e cocaina Ma la fotonotizia è per il bar Rio Club Che è stato riaperto dal Tribunale Amministrativo Regionale Il questore lo aveva chiuso A seguito dell'episodio della morte di quella ragazza irlandese Che secondo la polizia era andata in quel bar I gestori avevano continuato a darle da bere Nonostante fosse ubriaca Poi la ragazza doveva partire con la nave In realtà è caduta in acqua ed è morta Annegata al porto di Ancona La guerra dei locali, comunque questo è il titolo Sul Carlino di Ancona Pesaro invece Il ricordo di Forlani La bomba e la memoria storica Con Piazza Fontana su saltò un pezzo d'Italia Giornata mondiale delle persone scomparse Dicevamo ieri, ieri l'altro Un esercito di scomparsi anche nella provincia di Pese Urbino Dal 1973, 144 sono le persone scomparse La maggior parte minori Nel lavoro nero Nel lavoro è il nero che avanza Evasione fiscale delle ditte e operai regolari La finanza dà i numeri in crescita Molto frequente il fuori busta Mentre a centro pagina una foto notizia Con un titolo che non lascia scampo Pesaro e Fano non respirano Smog sono le città che in regione hanno più sforamenti E davvero non c'era bisogno del titolo del giornale O di un articolo del giornale Basta uscire per accorgersene di come l'aria che respiriamo Per lo meno nelle città di Pesaro e Fano È davvero un disastro Università, ecco la proposta di ingegneria Possibilità per un corso di laurea di tre anni Sui sistemi tecnologici L'annuncio di Ricci e dei grillini E poi Teseo, l'uomo che vedremo tra poco Ci protegge dagli asteroidi È un 55enne di Piobbico Ma sulla pagina di Fano si discute Dei nuovi parcheggi a pagamento Ed è subito polemica La polemica la tira fuori Sir Filippi della Lega Che parla di una tassa contro le attività economiche Mi chiedo, dice Sir Filippi Se la delibera sia stata condivisa con le associazioni di categoria E con gli esercenti del lungomare e del centro storico Se così non fosse Chiedo le dimissioni dell'assessore alla qualità urbana Fabio Latonelli Che però risponde Dice così come è avvenuto In città a noi vicina La tariffa oraria nei pressi del centro storico E nelle zone di pregio Subirà un adeguamento compreso Tra lo 0,05 Quindi 5 centesimi Massimo 20 centesimi orari A seconda appunto della zona La pagina di fatto del Corriere invece A scuola la settimana corta Le primarie si organizzano Sabato libero dunque per i bambini Dalle lezioni nelle sedi dell'Istituto Nuti Mentre sederanno ancora sui banchi Quelli del Rossi e del Gentile Mentre a centropagina La fotografia del nuovo stemma in municipio Ha voluto indossare la fascia tricolore Il sindaco Seri ieri per inaugurare Questo nuovo stemma della città di Fano Affisso sopra l'entrata del Palazzo Comunale Tra le bandiere italiane ed europea Un dipinto dell'artista fanese Sergio Carboni Che sostituisce quello vecchio Ormai degradato Sia a causa dell'azione degli agenti atmosferici Scogliere Sulle scogliere c'è una dura contestazione Del consigliere regionale Boris Rapa Contro l'assessore Cristian Fanesi Dunque possiamo parlare di fuoco amico Sul vice sindaco di Fano La politica per la protezione della costa Viene quindi contestata duramente Da Rapa di Uniti per le Marche Il gruppo di riferimento del sindaco Seri E scrive Boris Rapa a proposito Leggo con grande amarezza e rammarico Che l'assessore con delega La difesa della costa Cristian Fanesi Che nella conferenza per presentare La progettazione delle scogliere a Metauriglia Oltre a non aver convocato L'associazione Oasi con Fartigenato Che è la promotrice del progetto Cosa di per sé grave Si è completamente dimenticato Ancora una volta di Ponte Sasso Di Torrette Della zona dell'Arzilla Gimarra Mentre ha precisato Fortunatamente La stessa dignità E la stessa attenzione Qui parliamo di un film Che a noi sta molto a cuore Come tutti quelli Che ha prodotto e girato Il regista fanese Henry Secchiaroli Che tra l'altro è fresco di nomina Come coordinatore di CNA Cinema Marche Vale a dire Gli Sbancati L'ultima pellicola Che uscirà al cinema A Fano Il 21 di dicembre Ieri c'è stata la presentazione Di questo nuovo film Nel film dove tra l'altro Faranno Si potrà rivedere Farà rivivere Dice Henry Secchiaroli Il nostro indimenticabile amico Filippo Tranquilli Così come grazie alla tecnologia 3D E a Michele Falasconi Il pubblico Che andrà a vedere questo film Potrà rivedere Com'era il campanile originale Del palazzo del teatro Di Piazza 20 Settembre Quindi Un film che Stando a chi ha già visto Qualche scena E qualche anticipazione Sarà sicuramente un film Che riscuoterà Un grande successo L'appuntamento Come dicevo È alle 16 Alle 4 del pomeriggio Del 21 di dicembre Al Politiama Per la premiere E poi alle 18.30 La seconda proiezione Sempre dello stesso Dello stesso giorno E poi La stessa notizia Viene ripresa anche Dal Corriere Adriatico Addirittura qui Con una foto di scena Con gli attori In bianco e nero Proprio riproiettando Riportandoci A quel 1944 Per Per Una scena del film Dove I protagonisti Cercano di salvare I campanili Sapete Sono sette i campanili Che svettavano All'epoca Fano In quell'anno E i tedeschi Prima di Battere in ritirata Li buttarono giù tutti Compreso quello di Piazza 20 Settembre E c'è Questo film Diviso in due parti Una di queste parti Appunto È un tuffo In cui i protagonisti Ritornano Incontrano figure Tra l'altro Ritornano nel passato Incontrano figure Dell'epoca Come il conte Carlo Borgoggelli Ottaviani Oppure il vescovo Di allora Vincenzo del Signore Ma poi tante altre Come dire Altre figure Per esempio I soldati tedeschi Interpretati dai rivocatori Dell'associazione dei Greenliners Oppure centinaia Di figuranti fanesi Di comparse locali E non solo Poi c'è il cast Con i nomi Che il Corriere Adriatico Pubblica questa mattina Sul giornale La Padalino Invece La scuola Ricorda il centenario Del medico dei poveri Celebrata la figura Del dottor Giovanni A cui è intitolata La scuola Quindi Giovanni Padalino Il medico scomparso Nel 1962 Dopo una vita trascorsa A curare la gente Più povera Della città Questa è un'altra iniziativa Che si inserisce Nelle festività natalizie E porta la firma Della famiglia Di Primo Ciarlantini La famiglia La vedete qua In tutto il suo splendore Primo Ciarlantini Insieme alla figlia In particolare Una delle figlie Ha voluto organizzare Ha pensato Questa iniziativa Che secondo me Vale la pena Ed è molto bella Un pranzo di Natale Per donare A chi ha perso la speranza Tutti i soldi Che saranno raccolti Verranno distribuiti Per tanti piccoli progetti Solo il titolo Già è interessante E suscita simpatia Con la custanza Per un pranzo di sostanza Che dove Non bisogna per forza Essere presente Al pranzo di Natale Nel senso che comunque C'è sul giornale di oggi Il Carlino Anche le coordinate bancarie Dell'Associazione del Samaritano Che raccoglierà questi soldi Poi dice La figlia Ogni piccolo grande treguardo Che verrà raggiunto Verrà condiviso Pubblicheremo online Tutte le somme raccolte Anche come verranno Redistribuite Eccetera eccetera Insomma Quindi è un appuntamento Per il giorno di Natale Per il pranzo di Natale Chi vuole partecipare Si può iscrivere E può quindi donare Qualche cosa Anche per chi invece È meno fortunato Sul digestore anaerobico Si continua a discutere Sul Correa Adriatico Perché c'è un intervento Dell'ex sindaco di Fano Cesare Carnaroli L'ex sindaco ricorda L'opposizione Che ci fu All'epoca Alla fine degli anni 90 Quando si parlò Di ampliare Quella che oggi È la più grande Impresa delle marche Ovvero La Profilglas Con la sua amministrazione Nel 1998 Approvò Dopo un articolato ITER L'allargamento Per 60 ettari Dell'area industriale Di Bellocchi Nel 1999 Carnaroli Autorizzò L'installazione Della fonderia Alla Profilglas E Carnaroli Interviene Nel dibattito Sulla localizzazione Di questo impianto Per i rifiuti organici Spostando la tesi Secondo la quale Un impianto industriale Va allocato In un'area industriale E sviluppa Quello che è Un suo ragionamento Da persona Chiaramente Competente In questo senso Perché un sindaco Che ha governato La città In un'epoca Come quella Importante Anche per lo sviluppo Quando certamente La crisi Era ancora lontana Però ecco Ci sono delle argomentazioni Comunque interessanti Che ha raccolto Lorenzo Furlani Carnaroli segnala Che l'azienda Con mille lavoratori Oggi è tra le migliori Per l'ambiente Greta sarebbe Per l'impianto Rifiuti Dice Ancora Carnaroli Ma Queste battaglie Contro Contro Queste battaglie Contro In generale Si spostano Anche Nell'entroterra Qui siamo a San Lorenzo In campo Che dice No all'allevamento Dei poli Se ne è discusso In qualche modo Recentemente Anche più volte Sui quotidiani Sulla stampa L'azienda Un'azienda importante Come la Fileni Che ha sede A Iesi Aveva progettato Nell'area Ex Aquater Di San Lorenzo In campo Un grande Allevamento Di poli Che però Non credo Che si potrà fare Perché Perché il sindaco Davide Dell'Onte Con gli assessori Che qui vedete Nella fotografia Martina Feduzzi Alessandro Fontana Confermano E dicono Nel prossimo Consiglio Comunale Adotteremo Gli atti necessari A bloccare La variante Al piano regolatore Propedeutica Alla realizzazione Dell'insediamento Produttivo Avicolo Che cosa ha fatto Non cambiare idea Ma che cosa ha spinto L'amministrazione Di San Lorenzo In campo A dire no La scelta È scaturita Dalle analisi Di una relazione Tecnica Che è pervenuta La settimana scorsa Dall'azienda In risposta Ad un'osservazione Fatta dal Comune In sede Di valutazione Di impatto ambientale E di valutazione Ambientale strategica Ora In quella relazione Nello specifico Come scrive Sandro Franceschetti Questa mattina Ma per farla breve Per non andare troppo Per le lunghe Si è scoperto Che ci sarebbero Delle condizioni Delle emissioni Od origine Quindi degli odori Parliamo di polli Di allevamento di polli Un po' troppo Invadenti E che Insomma Per una parte Del territorio Di San Lorenzo In campo Sarebbe stato poi Un problema E questo ha fatto Come dire Ha convinto L'amministrazione A votare Per il no Sull'influenza Si punta al 10% In più dei vaccini La soglia di sicurezza È il 75% Degli over 65 Trappeso refano Consegnate 42.000 Dosi di vaccino Molti lo acquistano Privatamente Addirittura in farmacia Abbiamo iniziato a vendere Quando ancora era caldo L'antinfluenzale Però poi adesso Il freddo È arrivato Torneremo a parlare Di vaccini Tra un attimo Intanto Il Carlino pubblica Un intervista Ma non è proprio Un'intervista È un parere Che Arnaldo Forlani Che ha 94 anni Ha fatto Su questa Su questa Vicenda Di oltre 50 anni fa A 94 anni compiuti Da pochi giorni L'ex premier Pesarese Nel 69 Segretario Della DC Torna a parlare Della strage Che cambiò La storia E lo fa Dalla sua casa romana Dove con discrezione Osserva ancora Le nervature scoperte Del paese L'ex pilastro Della prima repubblica Non può non ricordare Il mezzo secolo Dalla deflagrazione Della banca nazionale Dell'agricoltura Quando a saltare Furono le casse I corpi straziati E quando A rischiare di saltare Fu la cassaforte Della democrazia Cristiana Invasi dalle polveri Sottili Pesare e Fano Sono le due città Peggiori Nella regione Marche Hanno già registrato Oltre 30 sforamenti Restano solo pochi bonus Da qui alla fine dell'anno Ormai l'anno però è finito Urbino invece Rispira di più E qui ci sono le cifre Del nostro inquinamento Inquinamento che finisce Nei nostri Nei nostri polmoni Attenti alla suina invece Ecco Torriamo a parlare Dell'influenza Fate richiami Dice Marco Monaldi Direttore del servizio Vaccinazione dell'area vasta Numero 1 Si può vaccinarsi Fino alla fine di dicembre Sperando che il vaccino Resti Dunque Monaldi fa il punto Della situazione Oh Questa A parte la fotografia Che è strepitosa Monitoro le traiettorie Di asteroidi e comete Così Piobbico entra Tra gli osservatori Ufficiali E Chi è questo Scrutatore del cielo Questo osservatore Di asteroidi Si chiama Teseo Luigi Di Piobbico Ha 55 anni E ha ricevuto In questi giorni Il codice Osservatore Di Minor Planet Center L'associazione L'organizzazione Incaricata dall'Unione Astronomica Internazionale Eccetera Eccetera E quindi Dice Teseo Da queste parti O vai a caccia O peschi O cerchi i funghi A me invece piace Scrutare il cielo Scrutare il cielo Dicendo appunto Per il fatto che lui Abita A Piobbico E c'è tutta la storia Di questi Di quello che fa Insomma Si spiega Che cosa fa Nello specifico Questo 55enne Che appunto Scruta Con i suoi strumenti Il cielo Vitrifrigo Torniamo sulla terra Con i piedi per terra Perché Alla Vitrifrigo Arena Stanno sistemando Questo nuovo tabellone Il vecchio Cubo Sta per lasciare il posto A schermi elettronici Ad alta definizione In attesa Di un evento Molto importante Di palacanestro Che è la Final Eight Dunque Dopo 23 anni Perché era il 18 agosto Del 1996 Va in pensione Questo vecchio cubo Per lasciare spazio A questo tabellone elettronico Tra l'altro Moderno E innovativo È una parte integrante Della Vitrifrigo Arena Che ha accompagnato La storia di uno Degli impianti Più belli D'Italia Praticamente Dal giorno Della sua inaugurazione Questo tabellone elettronico Questa struttura Tronco piramidale Di 8 metri Per 12 metri Dotato di 4 Maxi schermi A tecnologia LED Dell'astronave È stato smontato Nei giorni scorsi È una procedura Tra l'altro Anche molto delicata 4-3 gru Addirittura Il cubo Il cubo Avrà sostituito Con una struttura Invece ottagonale 7 metri Per 4 metri Più moderna E funzionale Ricorso inammissibile 16 anni a Butungo Andiamo velocemente Stupri di Rimini Dal 2017 La Cassazione Ha confermato La condanna In appello Del capo branco Congolese Aveva agito Con tre minorenni Ricorderete Due residenti A Vallefoglia L'avvocato Vuole scontare Però la pena In patria Urbino Babbo Natale Arriva in Jolette Inclusione Solidarietà Entusiasmo Il regalo più bello E una città ducale Accessibile A tutti Sgarbi Pro sindaco Domani si vota In consiglio Cambini Sarà un valore Aggiunto Per la città E ci aiuterà E lo farà Naturalmente Gratis Investimenti Per le scuole Sport Soddisfatto Il sindaco Aguzzi Di Colli al Metauro L'elenco Delle opere finanziate E progettate Oltre 2 milioni Per i danni Del sisma E i danni Della neve San Lorenzo Dice no All'azienda Fileni Quadro cambiato Odori aumentati Il sindaco Dell'Onti Con gli assessori Fontane Feduzzi C'è chi ha cavalcato La vicenda Noi pensiamo però Ai cittadini Torna il presepe vivente Lo spettacolo È al castello di Mondolfo Due rappresentazioni Il 26 e il 29 dicembre Un nuovo percorso Facilitato E poi La bimba urtata Da un camion È tornata a casa La piccola di 4 anni Ne avrà per altri 30 giorni Il padre L'ha afferrata Evitando Di essere Investita Vietato morire Ora i loculi Sono terminati A Senigallia La camera mortuare Del civitero Alle Grazie Prevede il costo Di 85 euro Per chi muore a casa Una situazione Una situazione di confusione Assurda Addio Sempre a Senigallia La Montesi Aveva il turismo Nel cuore Dispiace per questa pagina Che è stata caricata male Dal giornale Rossanna Montesi È morta A 67 anni Stroncata Da una Malattia E poi La prima pagina Tornando Velocemente Sul Corriere Per farvi vedere La prima pagina Del Corriere Adriatico E quella del Carlino Il budget Per l'area vasta Non hanno persi 14 milioni E poi a centro pagina Lavoro nero 25 persone Sono finite Nei guai La prima pagina Invece Del resto del Carlino Pesaro e Fano Non respirano Il problema Dello smog Sono le città Che in regione Hanno più sforamenti Prima di salutarvi Vi ricordo Che c'è il concorso Dei presepi Quindi se state In questi giorni Allestendo il presepe Di casa L'avete allestito L'avete fatto Già Ecco Potete anche voi Partecipare al nostro concorso Di sera Nel corso del telegiornale Alla fine Vi facciamo Faremo vedere Le vostre fotografie Le vostre opere Quindi partecipate A questo nostro concorso Potete inviare Questi scatti fotografici Tre scatti fotografici Oppure un breve video In Di 30 secondi Girato con il telefonino In orizzontale Lo potete inviare Alla nostra Indirizzo Presepi Chiocciola Fanotv.it E E poi Ci sarà un vincitore Che Insomma Vincerà un premio Questo lo diremo Entro la fine Delle festività Entro il 6 di gennaio 20 e 30 C'è il telegiornale Il numero di telefono Per le segnalazioni Eccolo qui Grazie per averci seguito Buona giornata a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.